Ben ritrovati, ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Sto facendo un po' di modifiche, un po' di esperimenti, fatemi sapere se vi piace questa nuova configurazione che non è ancora arrivata al 100%, ma sto iniziando a fare un po' appunto di pensieri su quello che dovrebbe essere il fondale giusto per lo studio, poi qua c'ho la maglia del Piero autografata che devo appendere, quindi manca ancora qualcosina, manca ancora qualcosina, però dai. Pian piano arriviamo a completare il tutto. Adesso rido, sono bello contento perché abbiamo finito il video e quindi ci sta, c'è un po' di euforia, però vi dico che a breve rideremo un pochettino meno, nel senso che l'argomento di discussione di oggi è quello che riguarda i rinnovi dei contratti dei calciatori della Juventus. No, è una tematica secondo me che è da tenere in seria considerazione perché la Juventus dovrebbe iniziare proprio in questi giorni a ragionare su quello che sarà il futuro di determinati giocatori. Dato che si sta parlando di un rinnovo di contratto di Weston Mechanic in scadenza 2025, significa che la Juve sta prendendo in considerazione diversi rinnovi e ci sono alcuni giocatori che potrebbero diventare un vero e proprio problema per la Juve da questo punto di vista. Sto sfogliando quelli che sono i contratti in scadenza della Juve, a parte 3-4 giocatori in scadenza 2024, quindi a giugno 2024, come Alexandro che ovviamente non verrà rinnovato, almeno questa volta si spera, Daniele Rugani che dovrebbe rinnovare spalmando l'ingaggio per più stagioni, Alcaraz che è in prestito per 6 mesi e Rabiot che dato che l'anno scorso ha rinnovato per una sola stagione e diventa già un giocatore del quale discutere il rinnovo contrattuale. Intanto vi faccio una domanda, voi che cosa fareste con Rabiot? Perché io ho una mia opinione personale che a molti ha dato fastidio anche quando ho tirato fuori di tanto in tanto, però provo a spiegarvela. E cioè, si parla tanto di centrocampo della Juventus da rifondare, sicuramente Rabiot è uno degli elementi più importanti e tutte le volte che manca Rabiot si percepisce l'assenza del peso di questo giocatore qui. Però vi dico una cosa, se un giocatore come Rabiot che in scadenza contrattuale percepisce un ingaggio molto molto elevato, la Juventus decide di rinnovarlo, va a togliere quella potenza di fuoco sul mercato per andare a intervenire per un altro centrocampista. Quindi cosa significa? Che rinnovando Rabiot molto probabilmente poi diventa più difficile per la Juve andare ad acquistare un centrocampista con un valore elevato. A meno che la Juve non vada a tirare fuori dei fondi che ad oggi non pensiamo che possano esserci all'interno appunto delle casse bianconere. Quindi, ve la butto lì, se cedendo Rabiot c'è la possibilità di andare a prendere un altro centrocampista, io sinceramente non vado a rinnovarlo. Non perché Rabiot sia il problema, anzi Rabiot spesso e volentieri è stata soluzione della Juve, però la Juve non può più ragionare come una volta in cui va a inserire, inserire, inserire e difficilmente va a togliere. Quindi quello spazio salario lì che è molto importante può essere trasformato in soldi che andiamo a inserire nel cartellino e qualche milione in meno invece di ingaggio. Perché lo stiamo sentendo da tanto tanto tempo ormai, almeno un anno, che ci dicono che la Juve dovrà diventare un progetto sostenibile. Quindi certi ingaggi sicuramente dovranno uscire un pochettino dai radar. 2025 invece diventa un'annata particolare perché ci sono tutti e tre i portieri in scadenza e tra le altre cose stavamo parlando del rinnovo di Cesni che vorrebbe rimanere alla Juventus fino al termine appunto della sua carriera, ma anche qui c'è il nodo legato all'ingaggio. Quindi Cesni sarebbe disponibile poi ad abbassarsi l'ingaggio per rimanere alla Juventus in tal caso, quindi proprio per rimanere sulla tematica di Juventus sostenibile, io sarei felicissimo di poter confermare Cesni all'interno della rosa della Juve. Quindi questa è ovviamente una valutazione che la Juve dovrà fare da qui a breve e poi invece iniziamo ad entrare all'interno di alcuni argomenti se vogliamo un po' più scottanti, perché sono un po' più scottanti. Intanto bisogna pensare all'attacco perché Chiesa, Vlaovic e Ildiz sono le tematiche più roventi in casa Juventus, per alcuni c'è anche una sorta di fretta, quindi priorità, di pensare al rinnovo, per altri invece non troppo. Che cosa è successo con Dujan Vlaovic? È successo che a quanto pare all'interno del suo contratto c'era questa clausola a salire dal punto di vista dell'ingaggio. Vlaovic a scadenza 2026, quindi non è ancora una delle priorità massime della Juve, però se la Juve deve diventare questo progetto sostenibile, ovviamente cozza con un ingaggio molto molto alto di Vlaovic a salire. Quindi che cosa significa? Che la Juve si ritrova in questa situazione, a tre strade. O tiene Vlaovic con questo ingaggio qui e glielo paga perché gliel'ha riconosciuto e quindi i contratti li hanno fatti in due, nessuno ha puntato una tempia alla testa dei dirigenti della Juventus per fare un contratto simile a Vlaovic, o prova a trattare con il giocatore per spalmare questo ingaggio magari in più anni di contratto, poi bisogna vedere se Vlaovic è d'accordo perché ovviamente Vlaovic con i soldi ne ha diritto, dato che la Juventus gliela ha promessi, oppure va a cedere il giocatore. Quindi questa già è una tematica molto scottante e pericolosa, perché già quest'estate secondo me la Juventus ha dato la risposta, dato che io vi dico che questo è il primo anno zero della Juventus, perché sono entrati giunti li e manna, ecco la Juventus con questi dirigenti ha provato a cedere tu a Vlaovic, segno che non c'era probabilmente la volontà di riconoscere quell'ingaggio a questo determinato giocatore. Quindi Vlaovic secondo me diventa un campanello d'allarme, una sorta di spia rossa che si accede ogni volta che inizia il mercato estivo. Non so se è una lettura soltanto mia oppure anche vostra, lo vedremo, un po' la situazione legata a Moise Ken, no, è un giocatore che la Juventus avrebbe visto volentieri partire in questa sessione invernale, non tanto per l'ingaggio ma per cercare di accontentare intanto il giocatore che vuole conquistare l'europeo e poi metterlo in mostra per effettivamente poi evidentemente anche andarlo a cedere sul mercato e quindi ricavarci qualcosa dal punto di vista del cartellino. E poi abbiamo due trattative che forse vanno ad intrecciarsi tra di loro, perché se anche Vlaovic 26 non è una priorità però Ildis lo diventa, anche se scadenza 27, perché Ildis effettivamente oggi è entrato all'interno della rosa della prima squadra della Juventus. Oggi è un giocatore da prima squadra molto importante e quindi vorrà un adeguamento contrattuale e anche delle garanzie. Oggi leggevo la possibilità di dare a Ildis addirittura la numero 10 di Del Piero che in questo momento è occupato da Pogba che ha ben altri problemi. Ora, per quanto io impazzirei a vedere Ildis con la 10, forse stiamo correndo un po' troppo, non lo so, la butto lì, però è ovvio che nel calcio di oggi sempre meno romantico e sempre più legato al marketing una mossa del genere sarebbe una mossa estremamente corretta, se la guardiamo proprio dal punto di vista del marketing. Se la guardiamo dal punto di vista dell'affetto, dell'emozione, il 10 diventa sempre un numero un po' particolare da andare ad assegnare, ma negli ultimi anni è stato trattato anche abbastanza male. Abbiamo visto quella che è stata la decisione legata a Pogba. Però Ildis cosa significa? Che se rinnovi Ildis e gli vai a dare un certo peso specifico dal punto di vista dell'ingaggio, deve dargli anche un certo peso specifico dal punto di vista dell'utilizzo, deve diventare quasi il centro nevralgico della nuova Juventus, il giocatore al quale va a orbitare tutto il resto. E allora entra in gioco Federico Chiesa. Perché se abbiamo detto Vlaovic 26, Ildis 27, ecco che Federico Chiesa invece scade il 30 giugno 2025. E già quest'estate ricorderete che c'è stata molta confusione intorno al nome di Federico Chiesa. Erano venute fuori delle voci, Chiesa vuole 7, 8, 9, 10 milioni cifre sparate a caso e poi io vi avevo portato quel video mentre ero in vacanza a Pantelleria, bei momenti, quelli lì altro che il freddo e la nebbia di questi giorni, e vi dicevo che non era effettivamente stata quella la richiesta di Chiesa, quello era quello che poi era circolato sui giornali. Anche qui io ho la percezione che la Juventus fosse estremamente interessata già a cedere Chiesa in questa finestra di mercato della serie, arriva una squadra che mi offre X e X è un valore che per me è idoneo, io Federico Chiesa lo lascio partire perché torna da un infortunio, perché in questo momento anche in ottica 3-5-2 non è proprio un giocatore che... E io vi dico, rinnoverai Federico Chiesa? 100% sì, non sto neanche qui a discutere, non sto neanche qui a pensarci. Chiesa secondo me è un giocatore importantissimo per la Juventus, fortissimo e se iniziamo a mettere in discussione giocatori come Federico Chiesa diventa un problema. Poi parlare lo stesso discorso che facevamo prima per Rabiot, perché poi la parte salariale è quella lì, quindi quanto la Juve può spingersi là per Federico Chiesa? Perché poi Chiesa ha due possibilità qua, no? Dice, va bene, guarda, rimango la Juve anche al netto di un ingaggio che non è quello che mi ero prefissato, ma pur di rimanere la Juve, di scrivere la storia di questa società, mi trovo bene nella città, sto divinamente bene a Torino e con la Juve, sapete cosa? anche se invece che guadagnare 9 ne guadagno 7, anche se invece guadagnare 7 ne guadagno 5, a me va bene lo stesso. Questa sarebbe ovviamente una lettura molto romantica da parte di Federico Chiesa che io non posso sapere se è quella che passa nella sua testa, soltanto lui può sapere questa cosa e io mi auguro che questa sia la lettura di Chiesa al netto di una Juventus che ci sta continuando a dire certi ingaggi noi non possiamo permetterci, facciamo fatica a farlo. L'altra lettura è che Chiesa semplicemente dica guardate, grazie per quella che è l'offerta, io avevo in testa un'altra cifra e inizia a guardarmi intorno. E allora la Juventus deve iniziare adesso, cioè questa è una priorità perché Chiesa e Ildis si intrecciano, Ildis perché è scoppiato e quindi se non gli indai quell'ingaggio lì rischi che poi arrivino a prendertelo. Chiesa perché va in scadenza molto molto vicino ad adesso e anche Vlaovic lo diventa perché l'ingaggio di Vlaovic è a salire. Quindi questa è una vera e propria patata bollente per la Juve che deve capire se vuole rinnovare Chiesa o se addirittura si mette nella testa la possibilità di perdere lo a parametro zero come fu per Dybala. Cioè la Juventus dopo aver perso Dybala a parametro zero potrebbe perdere pure Chiesa a parametro zero che per quanto mi riguarda sono situazioni folli. Sono situazioni folli perché la Juventus in questo momento ha bisogno di giocatori forti, siamo qua che continuiamo a dire è la distanza tecnica dall'Inter è tanta e se ci mettiamo pure che i nostri giocatori comunque quelli che performano meglio li lasciamo andare perché quegli ingaggiati non possiamo più permetterceli allora perdonatemi ma è un cane che si rincorre la coda e dovrai essere sempre orientato a questi giocatori come Eldis o come Sule che non devi vendere assolutamente devi cercare di reinserire Rosa perché sono già tuoi e andare ad offrire un ingaggio che non è stellare ma che è in linea con quelli più alti della salary cup interna che ti sei andata ad attribuire. Attenzione perché questa è una tematica che sembra noiosa sembra che ci si possa pensare no queste cose qui sono urgenti perché nel progettare la Juve del futuro devi sapere se Vlaovic lo vuoi tenere anche se lui non è disposto a spalmare perché cavolo gli ha promessi se Chiesa lo vuoi tenere perché lo ritiene un giocatore importante anche al netto dei problemi fisici che sta avendo e quindi quanti soldi puoi investire in Federico Chiesa Eldis quante squadre te lo stanno venendo a chiedere quindi quanti soldi puoi prevedere di mettere in giro per Eldis ragazzi Chiesa Vlaovic e Eldis lo stiamo desiderando come tridente non l'abbiamo ancora visto nemmeno un minuto è una cosa molto triste secondo me da questo punto di vista mi dispiace anche solo contro l'Inter dato che eravamo sotto non ci sia provata questa strada però è alla base del futuro della Juventus se io penso sul lungo della Juventus magari anche con un'altra guida tecnica Chiesa Vlaovic e Eldis deve essere il punto d'avvio su cui costruire poi tutto il resto perché alla fine sono giocatori talentuosi giocatori che fanno la differenza giocatori che visto possono trascinarti all'interno della serie A attuale quindi attenzione che questi sono discorsi molto importanti e non vorrei mai che facciamo aspettare facciamo passare il tempo e vai e vai e vai e vai e il caso Chiesa che era già iniziato quest'estate e che in questo momento sembra un po' bloccato possa diventare effettivamente il caso di Bala e quindi perdere l'ennesimo giocatore importante a parametro zero di Bala l'avevi pagato 40 milioni Chiesa l'hai pagato 60 milioni e poi li fai andare via zero significa che hai speso 100 milioni hai usato i giocatori e poi non li hai rinnovati e hai perso dei veri e propri patrimoni tecnici questi sarebbero secondo me gravissimi errori perché io capisco la sostenibilità capisco l'autosostentamento tutto l'autofinanziamento qualcosa che vedete però poi alla fine i conti devono essere a posto d'accordo ma in campo poi i tifosi della Juventus non è che festeggiano se il bilancio è inattivo o se è a zero no i Juventus festeggiano se i giocatori vincano le partite se gli allenatori vincano le partite e se arrivano i trofei questa è la cosa più importante e non dimentichiamocela mai e non dimentichiamocela mai grazie a tutti